Buongiorno, sono il sindaco del Comune di Chieuti, mi chiamo Diego Iacono, sono il sindaco di un piccolo comune della provincia di Foggia e della Regione Puglia. Siamo il primo comune all'entrata della Regione Puglia, venendo da nord, tante che ci chiamiamo Porta della Puglia. Il progetto che abbiamo pensato di realizzare è proprio l'Ufficio Europa, cioè avere un ufficio dedicato che si occupa della progettazione europea per poterla trasfondare poi sul territorio. Credo che questo sia un progetto ambizioso per il nostro comune perché potrebbe dare sviluppo a quello che è Marina di Chieuti e portare chiaramente giovamento per quello che è l'economia e per quello che è poi lo sviluppo del territorio. Per quanto riguarda la comunità dei piccoli comuni, ritengo che sia utilissimo, utilissima anche perché riesce a mettere insieme e fare sintesi fra vari sindaci dei piccoli comuni e mettere in campo quelle che sono le problematiche che sviluppandole all'interno della community possono dare beneficio a tutti quanti i sindaci e a tutti quanti i comuni chiaramente.